Ma di questa feccia umana, di questa feccia umana, ne vogliamo parlare? Uno che sputa in faccia agli infermieri che sono al cotugno per non aspettare il tampone? Ma vergognati, imbecille che non sei altro, imbecille che non sei altro, vergognati! Con tutti i guai che ci sono in Italia, con tutti i guai che ci sono nel mondo per colpa di questo cazzo di virus se tu ti permetti di sputare in faccia a chi opera con tanta forza, con tanto coraggio, con tanta attenzione Mettiti vergogna, imbecille del cazzo, mettiti vergogna, questo devi fare una brutta fine perché quelli come te non meritano nemmeno di essere assistiti Dovete avere pazienza ragazzi, pazienza perché questa veramente sta diventando la fine del mondo Scusate, sono anche imbappinato a parlare, non ce la faccio, non resisto a non fare questo video Siete una vergogna, la vergogna dell'umanità, la vergogna siete, basta La vergogna, ve lo dico io, Armando Sanchez, ve lo dico io, siete la vergogna, punto